Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Sarascino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi risponderò ad una signora che mi parla di mal di testa cronico da più di 20 anni. Questa signora ha avuto mal di testa cronico per 20 anni, le ha provate tutte di più, ma non riesce a vivere. Ha fatto naturalmente TAC, risonanza magnetica, è andato da mille medici, da mille guru, anche di discipline alternative, il problema è rimasto sempre lì. Non ha mai però provato l'ipnosi, anzi una volta ha detto che ha provato un audio trovato su internet, però non ha avuto effetti duraturi, soltanto temporanei. Allora mi chiedeva cosa fare con l'ipnosi di CS vera e professionale, quali sono le differenze, se può essere utilizzata per eliminare il suo problema. Il sottoscritto ha eliminato il proprio mal di testa cronico da più di 12 anni con l'ipnosi di CS vera e professionale, l'ipnosi che proviene direttamente da Los Angeles Beverly Hills. Quindi il sottoscritto, cioè il dottore Claudio Saracino, ha sperimentato sulla propria pelle tutto ciò di cui parla, per cui non sono il tipico guru, maestro, insegnante che predica teoria e poi quando gli chiedi come si è sentito, cosa ha provato fisicamente e mentalmente non sa risponderti, perché non l'ha utilizzato quel materiale, quell'opera d'arte. Per cui ti posso garantire che se tu con il tuo medico curante o specialista hai scongiurato casi gravi alla testa, con TAC, risonanze magnetiche ed altri esami diagnostici e terapeutici, perché il sottoscritto non fa né diagnosi né terapia né cura, ribadisco ancora una volta il concetto, do soltanto consigli spassionati e tu devi sempre, se hai dubbi, anche se utilizzi qualcosa come supporti di autoipnosi, di CS eccetera eccetera, andare sempre e comunque dal tuo medico e chiedere il suo parere, ok? Però sappi che sono parole trasparenti, pulite, ad hoc, anche mia madre nel 2008, quando sentì le parole, mia madre è mezza suora mancata, all'inizio disse no, mi interessa figlio mio, falla a papà, mio padre era ammalato di ictus, dopodiché quando sentì questi audio e bp3 proferire parole semplici tipo ti senti bene, sei tranquillo, naturalmente con il metodo di CS, di autoipnosi vera e professionale che non è uguale nel mondo e non è per nulla uguale all'ipnosi conformista e commerciale che trovi in giro, bene, disse mia madre, ma non vedo niente di strano, niente di, non me lo disse, però la capì, perché mia madre è religiosissima, cattolicissima, ma non è pizzoga, ok? Per cui inizio anche lei e gli sparirono il dolore, anche lei ha il dolore cronico, aveva il mal di testa cronico da molti anni, io addirittura pensavo avessi preso da lei, gli sparirono anche i dolori al petto, perché mia madre è cardiopatica, cronica, però aveva i dolori al petto a prescindere dalla cardiopatia, perché era ansiogena, aveva l'ansia H24, dolori ai tendini, ok? Spariti completamente, solo con l'autoipnosi di CS, vera e professionale di Los Angeles Beverly Hills, di cui io sono l'esponente principe in Italia e in Europa. Ok? Anche se online la mia associazione trasmette sempre da Los Angeles e in ogni parte del mondo, difatti, anche se in questo periodo ho sospeso perché mi sto dedicando alla mia mission, alla mia missione di stocanare questa ipnosi grandissima per te e i tuoi cari, perché veramente può cambiarti la vita da così a così, senza mai, senza sempre. Quindi, ritornando al seminato, al discorso del mal di testa cronico, se tu hai un mal di testa cronico ti invito ad andare presso un professionista della tua zona, che tu ti trovi a Parigi, Milano, Roma, Hong Kong, Canikati, Abu Dhabi, Dubai, eccetera eccetera, vai, ti informi, puoi essere l'esperto di ipnosi anche un medico, uno psicoterapeuta, uno psicologo, oppure puoi andare anche da un consular, un mental coach, un life coach, un professionista dell'ipnosi vera e professionale che non sia operatore sanitario come Dave Hellman e naturalmente che non può farti comunque diagnosi o terapia o curarti, ma risvegliare le tue risorse interiori perché il tuo corpo, la tua mente faccia il miracolo della tua stessa mente. Ricordati, i miracoli della mente succedono se tu sai come fare per farli ottenere. Se hai dubbi, io ho tolto, ho aiutato collaboratori attorno a me, tantissima gente, imprenditori, operai, gente bisognosa con il mal di testa cronico, con delle sessioni online, offline, ipnosi di CS vera e professionale, anche con un solo audio di autoipnosi di CS vera e professionale, il problema non è tornato più, ok? Quindi se tu non vuoi girare cappelle, non vuoi andare in giro, hai paura di essere manipolato, non hai voglia, bla bla bla, e poi prendere un supporto MP3 di CS, di ipnosi vera e professionale e da solo, da sola, iniziare a toglierti questo mal di testa cronico. Non devi credere al sottoscritto, documentati, vai sulle riviste scientifiche internazionali tipo Lancet, Life, e vedi che cosa dicono dell'ipnosi che è riconosciuta come medicina alternativa nel 1958 dall'Associazione Medica Mondiale e dalla Chiesa con Papo e Pio IX nel 1847 questi dati li do per gli scettici, per i cosiddetti saccenti guru della materia che pensano di sapere tutto, ok? Per cui, e quando sentono la parola ipnosi pensano subito a giù cascasella. Fammi tutte le domande del caso, risponderò gratis, gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni perché sono spesso all'estero. Visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autipnosi del dottor Claudio Serracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzione di cesto del dottor Claudio Serracino e fai share, condividi con amici, parenti perché può essere quel quid, quella molla, come la definisco io e come è successo a me tanti anni fa e che gli può veramente cambiare la vita e far sparire una volta per tutte il mal di testa cronico che è causato dal tuo passato negativo, da quello che hai subito, dagli shock emotivi che magari hai pure rimosso a livello di coscienza ma stanno sempre nel tuo subcosciente che lampeggiano come una spia dell'olio di una macchina e ti dicono guarda stai tirando troppo la corda, fermati, allora le suggestioni ipnotiche di CS ad hoc, di vera arte, di CS vera e professionale ti aiutano ad eliminare la causa ed eliminata la causa, eliminato quell'omino che dalla montagna butta la spazzatura a valle ok, tu elimini anche lo sporco della valle, del laghetto, cioè della tua testa, ok, quindi cambia con l'ipnosi di CS vera e professionale